E' come un rituale segreto che parla di aromi e sapori lontani, i piccoli grani che sfuggono, come voler tornare alle terre d'origine, seguendo il loro ritmo. I sapori si fondono, danzano, tra il silenzio e il calore sfuggono sibili, come parole bisvegliate nella notte. Sollevo il coperchio e il vapore mi invade il viso, caldo. Intravedo le sagome rosse di peperoni ovetta, spezzo i grani che ormai sono diventati morbidi e tondi, pronti a legarsi con l'ultimo filo d'olio.